Il racconto parte inevitabilmente dalla coda anche perché per 93 minuti è stata una gara tirata ma obiettivamente povera di contenuti. Colancecco in area di rigore con un giocatore a terra da posizione privilegiata per battere a rete calce oltre la linea del fallo laterale. Sul capovolgimento di fronte il guardia grele trova il calcio di rigore assegnato da Giacinti di Ostia Lido. Conte stabile non fa sconti e regala i suoi tre punti pesantissimi ma obiettivamente immeritati per quanto fatto vedere. Per il Cologna è una beffa, per Ronci addirittura doppia dato che a dargli un dispiacere è stato un fedelissimo dei tempi di Casteldisangro e così fallisce l'obiettivo di affiancare al terzo posto l'Alba Adriatica. L'andamento del match è di facile lettura, i guardiesi senza cinque titolari cercano solamente il punticino badando solo ed esclusivamente al sodo. Il Cologna invece fa la partita anche se non va al di là dei tentativi di un ispirato gianzante. Croce e delizia l'esterno biancazzurro perché se da un lato le azioni migliori nascono tutte dai suoi piedi, dall'altro ad inizio ripresa spreca la migliore occasione dell'incontro. Ed alla fine quando tutto pareva già scritto la storia cambia in men che non si dica, con il Cologna recriminare ed il Guardia Grele che ottiene il massimo dando fiato ad una classifica che si fa nuovamente tranquilla. Questa è la cosa che mi dispiace perché la partita è finita, 30 secondi in più, la partita è finita, quindi fischia la fine, tutti felici e contenti perché noi per la prestazione, loro per il punto, quindi non bisognava inventarsi niente, invece pur non è niente ci si inventa, poi veniamo puniti. Ripeto, mi dispiace perché noi potevamo fare gol al novantesimo, che questo sicuramente si parla di fair play, ma io preferisco più il non fair play a questo punto perché facciamo gol e vincevano in 1-0, visto quello che poi succede poi. Forse il pareggio era il risultato più giusto. Sì, sì, sicuramente, per quello visto in campo sono state due squadre, la partita è stata combattuta, è stata bella, è stata avvisa aperta, abbiamo avuto l'occasione di noi, hanno avuto l'occasione di loro, è stata veramente una bella partita e questa vittoria vorrei dedicarla a Mario Delisio, un mio giocatore, che ha perso la nonna l'altro ieri, quindi anche lui si è giunto agli altri quattro titolari che non giocavano. Sì, 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 sì.